EDIZIONE STRAORDINARIA Notizie Flash Buonasera, Harry Saputo. Buonasera, l'ho riscritto. Bene, torniamo subito a Zonzo per vedere se ci sono novità. Anna, ci senti? Anna? Anna, non ti vediamo purtroppo. Anna, ci senti? Anna, non ti vediamo purtroppo. Per il momento è tutto. Arrivederci, Harry Saputo. A più tardi! L'ho riscritto. A più tardi. A più tardi. Va bene, che devo? Tu chiedi.